in conferenza stampa quest'oggi per l'audace cerignola lorenzo longo centrocampista dell'audace cerignola cominciamo subito con il pre gara insomma di quello che sarà il super match di campionato tra taranto e odace cerignola sicuramente una sfida importante importantissima per voi non decisiva perché siamo soltanto in avvio di girone d'andata come arrivate a questa sfida sicuramente arriviamo bene perché arriviamo da un periodo molto positivo come hai detto tu prima non è decisiva ma è molto importante perché sempre uno scontro diretto andiamo in uno stadio importante troveremo un ambiente caldo ma questo per noi deve essere uno stimolo in più per far bene quanto siete carichi anche in virtù delle quattro vittorie consecutive tra queste le due giunte in rimonta e mi riferisco a quella di sorrento ma soprattutto a quella conseguita domenica scorsa al monterisi contro un bitonto davvero ben attrezzato sicuramente arriviamo arriviamo molto carichi perché arriviamo da due vittorie in extremis questo sta a dire anche che noi siamo siamo un gran gruppo è una grande scuola perché ribaltare la partita sorrento e recuperarla allo scadere con il bitonto è sintomo di una grande squadra questo deve essere uno stimolo in più e come ti ho detto prima dobbiamo andare a fare a taranto dobbiamo andare a 30 fare la nostra partita perché è una partita importante devo cercare di riportare a casa appunto ci sarà il pubblico delle grandi occasioni anche in virtù della giornata prontaranto non mancheranno i tifosi giallo blu da cerignola si prevedono insomma belle presenze quanto potrebbe influire sul rendimento in campo quello che sarà lo spettacolo che si vedrà sugli spalti sicuramente sarà una gara che richiamerà a tutt'altro i campionati è il nostro pubblico ci dà una marcia in più anche nelle gare casalinghe si è dimostrata si è dimostrato che così noi l'appello che facciamo di seguirci in più tanti possibili perché è una partita importante abbiamo bisogno anche di questi vedevo due o trecento tifosi speriamo che ce ne siano ancora di più cosa ti senti di dire loro a poche ore da questo supermatch in molti l'hanno definita la partita dell'anno sappiamo tutti che da ambo le parti c'è tanta attesa e c'è tanta voglia di far bene sicuramente noi la cosa che possiamo promettere ai tifosi è di sudare sempre la maglia di onorarla fino all'ultimo minuto sappiamo quanto loro tengono a questa partita e speriamo di regalargli una vittoria che sarebbe importantissima per il proseguo del campionato grazie a lorenzo lombo